Musica Ancora per tutto il mese di luglio Se avete la possibilità di giocare con noi, sognando e cercando di realizzare i vostri sogni, scaricando l'app, potete andare sul sito www.rdsinsiemeatevogliad.it per scoprire come farlo. Tra poco, comunque, esaudiamo il desiderio di uno di voi. Chi ha detto che i desideri non si apperano? Vorresti un nuovo tablet? Fare un weekend romantico? Goderti il concerto del tuo artista preferito? Ascoltaci! Vai su rdsinsiemeatevogliad.it o scarica l'app. Vincerai ogni giorno il tuo desiderio e un premio finale di 5.000 euro. I fai regolamento sul nostro sito. RDS insieme a te. Voglia di realizzare i tuoi sogni. Uguale Swag, Swag, Swag. Ma perché lo dico aiuto?